E' stato sottoscritto stamani presso la Direzione Marittima di Vescare un importante accordo per tutelare il fratino. Il più piccolo degli uccelli trampolieri è infatti a rischio di estinzione anche per i numerosi atti di vandalismo che vengono commessi ogni anno contro i suoi nidi. Comandante, un importante accordo per tutelare questo uccello migratore? Sì, un importantissimo accordo. Noi siamo onorati di ospitare questa conferenza sui risultati e lo studio sull'uccello fratino che sicuramente non è un'attività non nostra prettamente istituzionale ma sta a suggellare quello che è l'ottimo rapporto sia con l'area marina protetta e con il WWF. Il fratino è stato sottolineato dall'ornitologo abruzzese Stefano Deritis, coordinatore scientifico del progetto. E' il più piccolo dei trampolieri che migra dalle coste del Nord Africa fino al nostro paese per riprodursi. Solitamente nidifica nelle zone dunali delle nostre spiagge e predilige le aree protette come quelle presenti presso la torre di Cerrano o nei pressi dei ripari di Giobbe ad Ortona. La popolazione del fratino italiana negli ultimi dieci anni si è ridotta del 50%. Anche in Abruzzo la situazione non è rosa in quanto nell'ultima annata abbiamo avuto 29 nidi rispetto a una media di 44 nidi degli anni passati. Questo purtroppo a causa della frammentazione del suo habitat, dell'invasione delle coste, a causa della cementificazione e dall'antropizzazione assidua delle nostre coste. Quindi senz'altro è una specie da tutelare anche perché il fratino consente di ottenere punteggio per la bandiera blu, per l'ottenimento della bandiera blu della balneazione nei comuni.